Sella e Candroni giocattoli Grazie! Ricordate il regolo qua, Armin e Giorgi e io voglio fare una grazia con i giovani della musica di Giorgi e io lo segnalo, l'applauso di Giorgi Armin e Giorgi, Adriano Valori E' un gioco divertente, grande campione due volte campione nel mondo, campione di piatto Armin e Giorgi, eccolo! Ha consegnato la magna scurra Eccolo, ritiene dalle mani del... Mi ne soffi nulla La fatica è stata uguale, altrettanto dura il percorso è stato veloce, abbastanza con parecchio vento all'inizio, comunque ce l'ha fatta ed è soddisfatto. E' contento di aver vinto questa tappa, si sente in forma, il cronometro è la sua corsa migliore, però nei giorni prossimi ci saranno delle salite impegnative, ci sono dei ottimi corridori come Scarponi e Nibali, quindi lui si impegnerà al massimo per difendere la maglia.